Bentornati a Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia. Vediamo i titoli. E' accusato di omicidio Osman Biliu, convivente della donna, trovato uccisa a coltellate a scaldasole. L'uomo è piantonato in ospedale, resta ricoverato con ferite d'arma da taglio. E la lomelina è scossa da un altro omicidio avvenuto a Vigevano, ammazzato di botte un 28enne peruviano, fermato al fratello della fidanzata, forse agito in difesa della ragazza. Definito in prefettura un piano di sicurezza per la nuova vita estiva a Pavia, da giugno entreranno in azione gli osservatori di strada per controllare le notti più calde per l'ordine pubblico. Auto a folle velocità, il quartiere Mirabello di Pavia, vi mostriamo i video shock girati dai residenti, vanno talmente forti che le vibrazioni stanno aprendo crepe nei muri delle case. Matteo Salvini nominato dal governo commissario la crisi idrica e dalla commissione regionale non si escluderà la necessità di interventi estremi per contrastare la siccità. L'infermo è avvenuto nella notte in ospedale dove è attualmente piantonato il convivente della donna trovata accoltellata a Scaldasole e accusato di omicidio. È stato disposto il fermo con l'accusa di omicidio per Osman Biliu, il 31enne che conviveva con Anila Rucci, la donna trovata morta mercoledì pomeriggio nella sua abitazione di Via Piave a Scaldasole. L'uomo di origine albanese, come la vittima, risulti irregolare sul territorio italiano e da tempo conviveva con la 38enne. Per gli inquirenti sarebbe stato proprio lui a ucciderla. Stando ai primi riscontri dei rilievi effettuati sulla scena del crimine dai carabinieri e all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo. Il sostituto procuratore del Tribunale di Pavia, Diletta Valduzzi, ha emesso quindi il provvedimento di fermo nelle scorse ore, tenendo conto del grave pericolo di fuga per il 31enne. L'uomo si trova ancora ricoverato a San Matteo di Pavia, dove è piantonato dai carabinieri. Gli investigatori stanno ora indagando per accertare il movente dell'omicidio, ancora non chiaro. Le attività investigative sono in corso anche con l'aiuto del personale del RIS di Parma e il reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma. Nella mattinata di venerdì sono stati effettuati nuovi rilievi nella casa di Via Piave. I punti oscuri della vicenda, però, sono ancora tanti. Osman Bilio, mercoledì pomeriggio, poco prima delle 17, si è presentato al bar del paese, in Piazza Castello, cercando di chiedere aiuto. Era sconvolto e aveva dei segni sul viso, così gli altri clienti hanno subito chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo è tornato nel cortile dell'abitazione, dove però è svenuto poco dopo. In casa, i carabinieri hanno trovato il corpo di Anila Rucci, in un lago di sangue. Anche il 31enne era ferito ed è stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale. Qui l'uomo, interrogato dai militari, ha spiegato che alcune persone avevano aggredito lui e la 38enne a colpi di coltello. Un racconto che però non ha trovato riscontri investigativi e così. Per Osman Bilio è scattato al fermo con l'accusa di omicidio. L'autopsia sul corpo della donna potrebbe permettere di fare chiarezza sull'orario della morte. Secondo Bilio, infatti, gli aggressori sarebbero entrati in casa alle 5 del mattino. Se fosse vero, perché avrebbe aspettato fino alle 5 del pomeriggio per chiedere aiuto? Una domanda che al momento rimane senza risposta. Come annunciato nei titoli, c'è stato un altro omicidio. Nella notte avvigevano in zona stadio un delitto che sarebbe maturato in ambiente familiare. Un peruviano di 28 anni è stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì, in un'abitazione di Via Piave, avvigevano. All'origine una violenta lite familiare. La vittima, Angel Albaredo Mechila, sarebbe stata massacrata di botte da un connazionale di 35 anni, Mario Pier Arteaga Rodriguez, fratello della sua fidanzata. La donna sarebbe stata picchiata dal suo fidanzato. Da qui la reazione violenta del fratello, che intervenuto in difesa della sorella, avrebbe colpito più volte la vittima, uccidendolo. Non si esclude che entrambi si trovassero in stato di alterazione alcolica al momento dei fatti. Parrebbe che tra i due ci fossero già state delle liti violente in passato, una delle quali sfociata anche in una coltellata. A nulla è servito l'intervento dei soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'aggressore ha tentato di fuggire, nascondendosi in uno scantinato vicino a Piazza Ducale, ma è stato rintracciato poco dopo dalle forze dell'ordine. Sarebbe stato trovato steso su un materasso, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Nessuno nel quartiere conosceva la famiglia, ma ci si interroga lo stesso sulla sicurezza in città. Non sono pochi coloro che affermano di aver paura di girare nelle ore serali. Fortunatamente le sette e mezza alla sera chiudiamo, quindi è un orario un po' più tranquillo. Ho sentito che hanno detto qualcosa, ma non so niente. Ok, quindi voi vi sentite sicuri comunque? Sì, prossimo sicuro. La situazione, a detta dei cittadini, sembra ormai insostenibile. C'è comunque qua un problema sulla sicurezza, no? Sicuramente, in generale sì. Io parlo del mio lavoro, sul mio lavoro fortunatamente al momento non ho avuto problemi. Però in generale sì, anche alla sera non puoi uscire ormai. Anche per i ragazzi diventa pericoloso. Un uomo è stato ritrovato privo di vita nel pomeriggio in una baracca incendiata lungo il fiume Ticino a Pavia. Il fatto è avvenuto nella zona della casa del fiume. Ad andare a fuoco è stato un capanno, all'interno del quale si era accampata una persona che non ha trovato scampo nell'incendio. Sono in corso le procedure per l'identificazione e l'ipotesi prevalente che si tratti di un senza tetto. Qualche settimana fa, in un episodio simile, aveva perso la vita Paolo Brambati, personaggio molto conosciuto nella zona della Vernavola. Vertice in prefettura nel pomeriggio e a Pavia, per vigilare sulla Movida, arriveranno gli osservatori di strada. Vediamo di che si tratta. Da giugno a Pavia arrivano gli osservatori della strada, al fianco della polizia locale, per evitare che la Movida, come spesso accaduto, degeneri. È quanto deciso durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, svoltosi venerdì in prefettura, strada nuova, piazza Vittoria, piazza Dellino e via Sirocomi, le zone in cui si muoveranno gli osservatori, ha spiegato la prefettura in una nota, in modalità dinamica il mercoledì, il venerdì e il sabato sera dalle 22 alle 4 del mattino seguente, in particolare in prossimità dei locali più frequentati. Le forze dell'Ordine hanno specificato che non saranno chiamate ad interventi diretti, ma ad un ruolo di intermediari per stemperare cori, schiamazzi, eccessi verbali e comportamenti poco urbani, prima che possano tradursi in criticità, vandalismi contro i beni comuni e disturbi nelle ore notturne. Dobbiamo lavorare, ha spiegato il prefetto Francesca De Carlini, per evitare che pochi responsabili sporchino in tutti i sensi la città e limitino la fruizione degli spazi pubblici e il riposo degli abitanti, poiché lo svago dei giovani e il riposo dei residenti nel centro storico di Pavia non devono essere escludenti e contrapposti, ma momenti della vita cittadina da conciliare con equilibrio e responsabilità da parte di tutti. Problemi invece di sicurezza stradale a Mirabello, ne avevamo già parlato in passato, questa sera vi facciamo vedere dei video assolutamente eloquenti. Via Mirabello, trasformata in una pista per moto e automobili che sfrecciano a tutta velocità, ad ogni ora del giorno e della notte. I video realizzati da alcuni residenti del quartiere e inviati alla nostra redazione sono piuttosto evidenti. Già in passato ci eravamo occupati dei problemi di questa zona della città, perché l'alta velocità è soltanto una delle criticità della via. Da circa quattro anni le fognature cedono proprio a causa dell'alto traffico, non solo automobili e moto, anche il passaggio di mezzi pesanti per la raccolta dei rifiuti e autobus contribuiscono ad indebolire il manto stradale, già piuttosto provato. A risentirne sono anche le abitazioni che presentano numerose crepe nei muri. Più volte in passato alcuni residenti hanno chiesto al comune di Pavia di intervenire, con la creazione di isole pedonali e dissuasori per l'alta velocità. Proprio nei giorni scorsi l'assessore alla mobilità e ai trasporti del Mezzabarba, Antonio Bobbio Pallavicini, ha effettuato un sopraluogo sull'area. Il primo intervento sarà la riqualificazione del manto stradale, visto che via Mirabello è inserita nel programma delle asfaltature estive. A medio termine invece si pensa a misure che possano moderare la velocità. Gli uffici del comune sono inoltre al lavoro per una possibile deviazione dei mezzi pesanti. In Consiglio di Stato è emesso la propria sentenza in merito al caso di missioni a Vigevano, stabilendo che il Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta potranno continuare a operare fino alla sentenza di merito del Tar, respinto al ricorso presentato dal consigliere di minoranza Furio Suvilla con cui si chiedeva di sospenderne i poteri. Il caso è quello delle 13 lettere di dimissioni presentate il 30 novembre scorso all'ufficio protocollo del comune di Vigevano, con i vari fatti, dal ripensamento del consigliere Riccardo Capelli e la sparizione del foglio delle sue dimissioni, che avevano convinto la prefettura ad annullare il procedimento con cui si tentava di far decadere Sindaco e Giunta. Secondo il Consiglio di Stato, la prefettura ha agito correttamente in base ai documenti che aveva, ma si rinvia al Tar di giudicare nel merito se le dimissioni di Capelli siano o meno da considerare valide. La vicenda quindi non è ancora conclusa. E forse ricorderete invece un'altra vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il Sindaco di Barbianello, che poi era stato reintegrato nel suo incarico, però insomma per lui davvero un brutto periodo, è stato costretto ad annullare tutti i suoi prossimi impegni a causa di un malore. Era tornato da qualche tempo alla guida del Comune dopo la bufera giudiziaria, non ancora conclusa che lo ha coinvolto, ma Giorgio Falbo, Sindaco di Barbianello, ha dovuto disdire una cerimonia prevista per domenica con la consegna delle chiavi del Paese all'ex parroco perché ricoverato d'urgenza in ospedale a Pavia per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero per fortuna gravi, ma per alcuni giorni resterà ricoverato alla Maugeri. La benemerenza in programma per domenica è stata quindi rinviata data da destinarsi, e così l'ex parroco di Barbianello, Pier Giorgio Pruzzi, dai primi anni 2000 vicario generale della diocesi di Tortona, dovrà attendere per ricevere l'onoreficenza voluta dal Sindaco. Il primo cittadino lo scorso anno era stato coinvolto da un'inchiesta su presunti fanghi inquinati sparsi nei campi del Basso Oltrepo. La procura di Pavia gli aveva contestato le accuse di inquinamento colposo e concussioni in relazione ad una telefonata da cui sarebbero emerse pressioni ad un agente di polizia locale per un sopralluogo su alcuni terreni nella vicino comune di Mezzanino. I legali del Sindaco però avevano contestato fermamente queste accuse, evidenziando errori nella ricostruzione dei fatti della pubblica accusa che dovranno essere discussi nel corso del dibattimento. I problemi dei quartieri di Pavia, partiamo da Pavia Est, dove ieri c'è stata un'assemblea. Uno dei punti più caldi è quello dell'ipotesi dello spostamento del campo nomadi che i cittadini si aspettano che venga scongiurato anche in maniera ufficiale mettendolo su carta. Dal tema dello spostamento del campo sinti di Piazzare Europa al progetto della discarica di inerti sono stati tanti i temi di cui si è discusso in un incontro tra residenti e imprenditori organizzato nella sede del settimanale pavese. Qui a Pavia Est, nell'estrema periferia della città, ci sono pochi servizi, ma è la mancanza di considerazione da parte dell'amministrazione a preoccupare chi abita e lavora in questo piccolo quartiere tra Viale Lodi e Viale Cremona a due passi dalla tangenziale. Nei mesi scorsi è comparsa nella variante del PCT una scheda che prevede un'area destinata alla realizzazione del nuovo campo nomadi in un terreno di circa 8.000 metri quadrati, tra le vie Saragate e Aschieri, una scelta sulla quale i cittadini chiedono chiarezza. Secondo me legittimamente avremmo dovuto essere interpellati, almeno su questa opportunità. In realtà sono state esclusivamente delle notizie che si sono inseguite. Abbiamo avuto un incontro cordiale con il sindaco che in qualche modo ci ha rassicurato sulla impossibilità che ci avvenga, però la preoccupazione rimane perché comunque è un piano regolatore, carta canta, è tutto scritto. La zona individuata sta proprio al confine delle nostre proprietà, quindi voglio dire, a parte dell'opportunità o meno, noi oggi subiamo comunque una svalutazione dei nostri mobili che non verranno probabilmente più presi in considerazione se qualcuno voleva. In più questa è una zona industriale, come si può ben vedere, già abbandonata a se stessa. Insomma ci sentiamo un po' trattati ai margini veramente della periferia e della considerazione. Queste persone hanno il diritto di avere un posto dove stare, ma adeguato e non buttati in un campo dove sicuramente non c'è nulla e non si potrà fare nulla. E poi abbiamo scoperto proprio oggi che la legge dice che il campo nomadi deve essere fatto per gente proprio nomade, cioè ovvero sia che non hanno residenza, che non hanno casa. Questi di Piazzale Europa sono residenti nel comune di Pavia. Nel corso dell'incontro è emerso che la scheda relativa al campo nomadi potrebbe già essere stata stralciata dalla variante del PGT, ma i residenti hanno comunque sottolineato la necessità di spiegazioni da parte dell'amministrazione. E se è vero che il progetto del nuovo impianto di trattamento di rifiuti inerti in zona bellingera è di competenza provinciale e regionale, i cittadini di Pavia Est chiedono più considerazione per tutti quegli altri servizi che mancano in questa zona della città. Si parla anche di una periferia, una parte della periferia qui che è un po' distante, un po' abbandonata a se stessa, con pochi servizi? Sì, lo è. Abbiamo da tempo chiesto un servizio di bus che arriva peraltro a due chilometri da qui e non si capisce perché non possono fare due chilometri in più ed arrivare fin qui. Peraltro ci sono delle scuole che giustamente ha fatto presente e sarebbe opportuno avere un servizio di pulmona per gli studenti che devono venire qui. Non si riesce ad ottenerlo. La Pavia Est a Pavia Ovest e in questo caso, in vista della revisione del piano di governo del territorio, i residenti chiedono di avere più servizi e di scongiurare l'ipotesi della costruzione di ulteriori nuove palazzine. Trasformare l'area a un tempo destinata alla costruzione di una moschea in una nuova piazza urbana è l'obiettivo delle osservazioni al PGT presentate dai residenti di Pavia Ovest. In questi giorni, agli uffici di Palazzo Mezza Barba, stanno arrivando centinaia di osservazioni alla variante al piano di governo del territorio. Tra queste spiccano le considerazioni del quartiere Ovest del capoluogo. L'obiettivo è trasformare questa ampia area verde in una zona destinata a servizi per la collettività, ludoteche, servizi postali, farmacie e attività ristorative, per citare alcune idee. Continuiamo con gli strumenti disponibili, quelli che la cultura democratica e amministrativa ci mette a disposizione, a cercare di far valere la nostra voce e le nostre ragioni. Qua dietro abbiamo un'area che, come ricorderete qualche mese fa, abbiamo illustrato essere una potenziale piazza, un luogo di aggregazione per questo quartiere così giovane, in molte costruzioni, nelle famiglie che lo abitano, così composito nella sua composizione sociale, è sicuramente un luogo di incontro serve. Non si tratta dell'unica osservazione presentata dai residenti di Pavia Ovest. In via Bonomi si chiede di trasformare l'area dedicata all'edilizia residenziale pubblica a verde, per non vedere sorgere nuove palazzine davanti a queste abitazioni. Lo stesso tipo di osservazione è stata presentata per via Aldorossi. Si chiede infine la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che riesca a mettere in connessione tutti i servizi, richieste che puntano alla tutela del verde del quartiere. Facciamo anche altre osservazioni che tendono a tutelare un po' il verde e i servizi in un'area dove già è stato abusato di consumo di suolo e di costruzioni. Insomma, Pavia Ovest è stato il quartiere che ha dato di più nello sviluppo residenziale negli ultimi anni. È sicuramente un bel quartiere, se sempre distinto per la qualità del verde e della vivibilità all'interno della città di Pavia, ci piacerebbe che questa caratteristica continuasse ad essere un elemento distintivo di quest'area. Per cui chiediamo semplicemente qualche servizio in più e un po' meno di nuove abitazioni che siano edilizia popolare o edilizia residenziale. Sono tante le osservazioni che stanno arrivando in questi giorni agli uffici del Comune di Pavia e ci sarà tempo fino al prossimo 24 aprile. Speriamo che questa volta queste osservazioni possano essere accolte perché sono le osservazioni di tanti cittadini che sentono e vivono il quartiere in questo modo e sul quale non vediamo alcun motivo ostativo perché questa voce venga ascoltata come le tante voci che in giro per Pavia si stanno alzando dai tanti comitati che stanno nascendo e prolificando nelle contribuzioni a questa amministrazione. Sentire i cittadini è un dovere di questa amministrazione. Ed è caduto dalla sua carica l'ormai ex sindaco di Volpara Claudio Mangiarotti. Il suo impegno adesso è in consiglio regionale e lì si dovrà occupare di un tema particolarmente dedicato per il nostro territorio come quello della siccità e quindi abbiamo chiesto quali possono essere le prospettive per un'estate che già si annuncia e lo sappiamo molto difficile. Il passaggio di testimone dal sindaco Claudio Mangiarotti al suo vice Martino Bossi è fissato per sabato nel municipio della piccola Volpara in Alta Valversa dopo l'elezione in consiglio regionale in quota Fratelli d'Italia Mangiarotti è stato infatti dichiarato decaduto dalla carica di primo cittadino del paese e sarà quindi Bossi a prendere il suo posto fino alle elezioni dell'anno prossimo. Il consigliere Oltrepadano è stato nominato fra le altre cose nella Commissione Agricoltura, tema da sempre centrale per la provincia di Pavia e ancora di più negli ultimi anni segnati da crisi climatica e siccità. Da agricoltore conosco dall'interno le problematiche di questo mondo, di questo settore, la situazione che stanno vivendo numerose aziende, aziende che comunque ogni giorno ci portano sulle nostre tavole eccellenze. Io penso che oltre a parlare di criticità quindi bisogna lavorare all'interno della Commissione anche per valorizzare le eccellenze del nostro territorio che sono tantissime, vanno dal vino delle colline dell'Oltrepo a riso della Lomellina per passare a tante unicità che il nostro territorio ci regala, quindi dobbiamo lavorare anche per questo. Tra i temi a proposito di agricoltura che si tratteranno in margine ci sarà anche quello dedicato appunto alla siccità, insomma che sembra ormai diventato un mantra il problema principale. Io vivo da agricoltore, l'ho detto prima, vivo con maggiore preoccupazione questa stagione rispetto a quella passata. La siccità sta mettendo a rischio non la produzione di riso del pavese, della Lomellina ma mette a rischio anche la produzione vitivinicola dell'Oltrepo con un forte rischio di calo e anche di danneggiamento di molti impianti viticoli. Quindi sicuramente dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare per cercare di dare forme di sostegno alle aziende ma soprattutto per trovare soluzioni per ovviare al problema nel medio breve tempo. Naturalmente però tutti ospichiamo l'unico agente possibile per risolvere il problema che è la pioggia, però dobbiamo cercare anche di trovare soluzioni anche estreme per far fronte a questa emergenza che è sicuramente importantissima e preoccupante. Intanto è stato nominato il commissario nazionale per l'emergenza idrica, si tratta di Matteo Salvini. La nomina nell'area da tempo è stata ufficializzata nel primo pomeriggio da Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha conferito al Ministro delle Infrastrutture la presidenza della cabina di regia. Compito della cabina di regia sarà quella di coordinare e monitorare le operazioni necessarie per far fronte alla crisi idrica conseguente ai due anni di siccità. Nel pomeriggio si è tenuta in prefettura la riunione tra vertici del San Matteo e sindacati sui carichi di lavoro giudicati eccessivi per i lavoratori del comparto pulizie. Sentiamo come è andata. Si è concluso con una fumata grigia l'incontro in prefettura tra il sindacato di base e le aziende che gestiscono servizio di pulizia al San Matteo di Pavia. Il sindacato nelle scorse settimane aveva proclamato lo stato di agitazione per denunciare un aumento dei carichi di lavoro nei reparti e diversi problemi legati alle ferie dei dipendenti. Le parti si ritroveranno il 19 maggio per cercare di trovare un accordo. Se non sarà possibile, il sindacato non esclude la possibilità di proclamare uno sciopero. Se noi abbiamo già detto e dimostrato che per quel che ci riguarda abbiamo mandato al stato di agitazione, siamo disponibili a fermarci e riflettere un attimo, però chiaramente poi appena dopo dell'incontro del 19 valuteremo insieme ai lavoratori il da farsi e quindi poi lì si vedrà. Siamo d'accordo con la prefettura che gli manderemo il comunicato dell'incontro che faremo il 19 e così poi anche la prefettura sarà informata e vedrà insomma se convocarci ancora o non convocarci. Non escludete anche iniziative tipo scioperi? Assolutamente no, perché dal momento in cui noi facciamo presente che siamo un sindacato di lotta è ovvio che laddove non si riesce a trovare la giusta soluzione per questi lavoratori che comunque stanno gridando aiuto per il modo, per la modalità in cui viene richiesto il loro servizio, a questo punto si potrà anche vedere, potremmo anche considerare la possibilità di uno sciopero, assolutamente sì. Consiglio Comunale a Pavia si è parlato dell'eventualità di mettere da parte un tesoretto per aiutare le famiglie nel caro energia, però non si può fare perché probabilmente quei soldi serviranno per pagare le bollette del Comune. Prendere i fondi accantonati per affrontare il caro energia e coperti successivamente dal Governo e darli a famiglie ed imprese. Era questo in sintesi il contenuto dell'ordine del giorno collegato al bilancio presentato dal consigliere Rodolfo Faldini nell'ultimo consiglio comunale e bocciato dalla giunta del capoluogo. Si tratta di una cifra di circa 300-400 mila euro che l'amministrazione durante la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno scorso aveva accantonato per far fronte ai rincari. Solo in un secondo momento lo Stato ha destinato pari risorse con l'inizio del 2023. In pratica il Comune ha preventivato le spese dovute ai rincari e il Governo ha trasferito le risorse nei mesi successivi. Ciò significa che il Comune di Pavia sia ritrovato a disposizione un tesoretto di 300-400 mila euro. La proposta del consigliere Faldini era dunque di creare un nuovo fondadoc come avvenuto in passato da destinare alle famiglie e alle imprese pavesi maggiormente in difficoltà. L'ordine del giorno è stato però bocciato non tanto nel principio quanto nel metodo. I trasferimenti statali non copriranno nuovamente gli aumenti anche per l'anno prossimo e una piccola riserva è ad oggi fondamentale. Solo la verifica degli equilibri di bilancio consentirà di capire se vi saranno nuove risorse per i cittadini pavesi. È tutto, vi lascio all'arresto della programmazione di Milano Pavia TV. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.